Sei pronta per la battaglia? Certo! Vediamo, vai! Non copiare! Quando? Quando è? L'anno! Bella domanda, iniziamo bene! 3, 2, 1... Vai! Sì, ma... Eh, ma non mi ricordavo l'anno! Era marzo-aprile! Era marzo-aprile, guarda che non era febbraio! Divorziamo, eh! Ho ragione io, 1-0 per me, vai! Ah, questa! Vabbè! Vediamo chi scrive prima! Per fortuna è recente! Prima! Ho vinto io! Bravo! Ho mese e anno! Aia! Ma cosa dici? Forse hai ragione tu! Ah no, forse è tu! L'anno è quello! L'estate! No, il piatto preferito? Non lo so, il mio piatto preferito... Lo sei tu? Sì, sì, beh, cavolo! Cioè, questo è importante! Vediamo! È facile! È facile! È facile! È facile! Vabbè, questa era facile! È qualsiasi facile! Vabbè, che pasta asciutta! Va bene! Va bene! Quasi pari! Ma sempre vantaggio io! Ci sono, vai! Io ci sono! Quanto mai ho scritto? Sette anni fa! Sette anni fa! Eh, sette anni fa! Però, cioè, qui in 2012... Nella stagione 2012-2013! Beh, questo possiamo andare a vedere però! Cioè, era così! Tipo 2012-2013! Allora anch'io! 2011-2012! Quindi più o meno va bene, no? ��atria nel coriore! Grazie! Tutt! Sì! Eここ!